Abbiamo 150 aziende che saranno al porto turistico, noi abbiamo un fine aprile e un maggio intensissimo, ci sarà appunto Pescara Baby City, Pescara Senior City, 150 aziende, un numero importante, aziende che vengono anche da fuori regione, manifestazione che siamo al quinto anno che sta crescendo, sta crescendo bene, siamo soddisfatti e è inutile che le ripeta quello che sempre vi dico, ci auguriamo e siamo certi che sarà così, che i pescaresi, gli abruzzesi ci saranno, gli operatori saranno presso il Marina di Pescara. Un appuntamento importante anche per aprire la stagione estiva del Marina di Pescara. A proposito di stagione estiva, sapete benissimo che stamattina io ci sono passato per essere certo, perché su queste cose bisogna essere come San Tommaso, sono stato alle 8 al porto turistico, la draga ha cominciato a fare il suo lavoro. Una decina di giorni di tempo il problema dovrebbe essere risolto.